Il punto importante che ha fatto il punto su questioni strategiche della nostra provincia si tratta di mettere in campo delle iniziative che avranno una portata storica, il raddoppio della ponte Bergamo-Montello, quindi l'utilizzo ai fini urbani e metropolitani della linea è un collegamento est-ovest della provincia, il collegamento Bergamo-Orio, collegare quindi il nostro aeroporto con il sistema strategico della viabilità, con il treno appunto della grande viabilità, dell'alta velocità e poi tutta una serie di miglioramenti delle linee esistenti che favoriscono il passaggio del trasporto su gomma al trasporto su ferro. È una sfida, è quella epocale, è la sfida del secolo che noi vogliamo raggiungere e non solo abbiamo seminato in questi anni, mi pare che abbiamo trovato anche le coperture finanziarie per dare la progettazione alla realizzazione.